Non mi aspettavo che il Borgaro venisse a giocare con un 3-5-2 piuttosto compatti anche perché tutte le partite che hanno fatto finora hanno giocato a 4. Non ci ha sorpreso questo però il problema del campo che è oggettivamente molto piccolo diventa un problema poi riuscire a fare un gioco diverso però sappiamo questo è il nostro campo e dobbiamo valorizzarlo al meglio. Per quanto riguarda la prestazione dei ragazzi tanta roba perché non dimentico che questa era la quinta partita in 14 giorni che abbiamo giocato mercoledì ad Imperia mentre i nostri avversari hanno preparato bene la settimana e secondo me hanno fatto una partita dal punto di vista tecnico e mentale importante. Ancora di più sul 2-0 dopo ho preso il 2-1 un momento che poteva essere di difficoltà mentale ho avuto le risposte quelle che chiedevo alla squadra una squadra che non molla una squadra che dura e dura a morire.